Buongiorno dottoressa Mainardi, siamo qui con Confindustria in un convegno che si intitola Welcome to STEM, un titolo che non è facile da capire cosa significa. È un titolo in inglese che significa benvenuti nel mondo delle STEM. Il progetto che presentiamo oggi è un progetto finanziato dalla Regione Veneto che il nostro ente di formazione Confindustria realizzerà nel territorio della provincia di Rovigo per i prossimi 18 mesi. È un invito a tutte le giovani ragazze, ma non solo, alle lavoratrici, alle imprese a considerare la presenza femminile anche la luce delle tecnologie STEM che stanno rendendo sempre più importante l'ingresso nel mondo del lavoro a chi maneggia e conosce queste tecnologie. Le donne fino ad oggi sono state poco vicine al mondo delle tecnologie anche per questioni culturali, per questioni di mentalità e di cultura delle famiglie spesso e della scuola stessa. Per cui questo progetto ha l'obiettivo proprio di abbracciare tutto il Polesine, alto, medio e basso, in un processo culturale e di formazione delle giovani. Tecnologia gentile, il sinonimo di tecnologia gentile quale può essere? La tecnologia gentile è un modo diverso di vedere le tecnologie e la matematica, non come qualcosa di austero, di serio o di difficile da approcciare, ma come una modalità per rendersi più contemporanei e vicini al mondo del lavoro. Dottor Munari, Veneto Lavoro è impegnato nelle statistiche che riguardano il mondo del lavoro. Come siamo messi in generale e soprattutto nel gender gap che è l'argomento di oggi? Allora, la regione del Veneto è una regione che risponde anche con un mercato del lavoro assolutamente in un trend positivo. Ovviamente la sfida è quella di performare sempre meglio e avere a disposizione più progetti come questo per poter includere maggiormente le donne nel mercato del lavoro. Come abbiamo esemplificato durante l'evento di oggi, il mercato del lavoro in questo primo periodo del 2023 sta rispondendo positivamente anche nell'inclusione delle donne all'interno del mercato del lavoro, però è sempre distante la parificazione fra generi, quindi è importante sia per l'istituzione pubblica come Veneto Lavoro, che garantisce l'accesso a queste politiche attive del lavoro. È importante anche collaborare con i soggetti privati che attivano progetti e azioni che possono impattare e migliorare l'inclusione delle donne all'interno del mercato del lavoro. A livello di numeri, in Polesine, come siamo messi nella disparità tra uomini al lavoro e donne al lavoro? Allora, diciamo che il trend si assomiglia in regione abbastanza distribuito equamente. La caratterizzazione del mercato del lavoro in quest'area è particolare perché anche ha un territorio, la parte est del Polesine, che è caratterizzata dalla stagionalità, quindi è un mercato del lavoro che va studiato dai soggetti competenti come Veneto Lavoro, che è presente in tre aree del territorio con i centri per l'impiego di Adria, Rovigo e Badia Polesine e un recapito a Portotolle che da poche settimane è stato aperto e è importante per noi essere presenti e consultarci anche con le altre istituzioni pubbliche e i soggetti privati per aumentare l'inclusione. Però diciamo che il trend è sempre un trend positivo e laddove c'è una regione che sta bene a livello economico è importante anche che l'inclusione nel mercato del lavoro migliori, altrettanto quanto migliora il trend economico.